Magari mi ha detto così che si sentiva con un altro che gli interessava di più da un po' di tempo. Sì, tieni conto che le ragazze si sentono sempre con molteplici uomini. Questa è una cosa che devi accettare, ma non con lei, con tutte le ragazze. Uscire dai film, non esiste che la ragazza è solo con te, si sente solo con te. Fai conto, c'è una cosa che appare abbastanza brutta la sentire la prima volta che la senti, però questa la sentiva da una persona molto esperta che insegnava a livello mondiale, adesso non insegna più tanto nel settore seduzione, che però lui diceva che il 99% delle ragazze, prima di lasciare il proprio fidanzato aspetta di averne già un altro praticamente pronto. Sì, sì, lo so alla perfettiva. Io adesso non ho un miliardo di riscontri di questa cosa qua, però mi ricordo una volta che stavo uscendo con una che era fidanzata, che però non stava bene nel suo ragazzo, che il suo ragazzo la trattava male, gli controllava il cellulare, non le faceva fare niente, proprio la bloccava in tutto, cioè non gli permetteva di fare niente e quindi lei si sentiva soffocata in questa relazione, però aveva paura di lasciare questo ragazzo qua e mi diceva a me che prima di, quindi noi stavamo uscendo insieme e mi diceva che prima di lasciarlo voleva che io le dessi la certezza e poi ci saremmo messi insieme. Quindi comunque questa cosa qua ha dei riscontri, non ho avuto un miliardo di riscontri di questo tipo nella mia esperienza, anche perché sono uscito con un miliardo di ragazze fidanzate, però mi ricordo di questa cosa qua. Quindi tieni conto che ragazzo... E' una cosa che pensavo anch'io. Ciao! 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 Grazie a tutti.